ciao e bentornati a crochet romance io sono lisa e oggi vi mostrerò in questo tutorial come realizzare questo cordino il cordino io l'ho realizzato per la maglia safari al quale vi lascio il link nell'info box e mi mancava solo di spiegarvi come realizzare il cordino ovviamente questo tutorial è disponibile come sempre per mancini e per destrorsi e quindi se vi trovate nel video che è con la mano sbagliata per voi andate a vedere sempre nell'info box e troverete le spiegazioni per la vostra mano allora io ho rifinito il cordoncino con due perline ai terminali quindi all'inizio e alla fine della corda e vi mostrerò anche come realizzare come attaccare le perline il materiale che ci serve per realizzare il cordoncino ovviamente per il nostro progetto usiamo il filato che abbiamo usato per fare la maglia quindi il filato polinesia che ci è avanzato tra l'altro con l'avanzo possiamo fare sia il cordoncino che la cintura nel video della maglia safari avevo detto che facevo un tutorial per la cintura ma poi mi sono ricordata che tempo fa avevo già realizzato una cintura bellissima all'uncinetto con i filati di tutto si crea quindi vi lascerò il link al tutorial di questa cintura nell'info box in modo che potete realizzare caso mai quella cintura perché è veramente molto molto bella oltre al filato ci serve un uncinetto io adesso sto usando il 3,5 e poi due perline in legno che abbiano un foro abbastanza grande in modo che ci permette di far passare il filo inoltre ci servono le forbici e un ago che abbia un'asola sempre abbastanza grande per poter fare passare il nostro filo ma allo stesso tempo deve essere abbastanza stretto per poter passare attraverso la nostra perlina allora iniziamo la nostra lavorazione lasciando un bel pezzo di filo libero perché poi ci servirà per cucire la perlina poi andiamo a fare un'asola d'avvio e facciamo due catenelle 1 e 2 entriamo nella prima di queste due catenelle prendendo solo il filo dietro e lavoriamo una maglia bassa poi andiamo a girare il nostro lavoro e questo lo faremo adesso continuamente durante tutta la lavorazione allora nella maglia che abbiamo appena lavorato vediamo che qua abbiamo questa v e questa v punta verso questo filo qui noi dobbiamo andare a lavorare dentro questo filo quindi vedete allora abbiamo finito così se giriamo vediamo qua una v e subito qui abbiamo un filo e noi andiamo a prendere questo e lavoriamo una maglia bassa qua abbiamo la v e qua abbiamo il prossimo filo quindi giriamo un pochino il nostro lavoro in modo che possiamo prendere bene questo filo e lavoriamo una maglia bassa la nostra v punta verso questo filo qui quindi noi giriamo il lavoro e andiamo a lavorare in questo filo qua 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 abbiamo la v e qua abbiamo il filo questo vedrete che fate un paio di punti e vi verrà tutto in automatico giriamo il lavoro e prendiamo il piccolo filo di continuo e questo lo dovete ripetere fino a quando avete raggiunto la misura desiderata del vostro cordoncino sempre così e si formerà la corda la mia corda misura circa un metro e mezzo ovviamente qua è solo un piccolo campione per farvi vedere la lavorazione ora una volta terminato passo il filo attraverso l'asola e stringo e taglio anche qua lasciando un bel pezzo di filo libero adesso sono pronta per cucire la perlina all'estremità quindi prendo il mio ago e inserisco nel filo cercando di prendere tutto il cotone ok ci siamo e adesso faccio passare la perlina sperando che con questa funziona ok allora quella della maglia era un pochettino più grande quindi ho fatto inserire la perlina dentro il filo ora torno qui alla base passo con l'ago attraverso il lavoro all'uncinetto e attraverso la perlina e torno su poi giro la mia perlina in modo da fare passare il filo dall'altro lato passo attraverso il lavoro all'uncinetto passo attraverso la perlina con la mano guida un pochino la situazione la posizione dove voglio avere il filo ora giro in modo da farlo passare qui e poi all'ultimo anche la allora da questa parte torniamo attraverso il lavoro e attraverso la perlina noterete che l'ultimo passaggio sarà veramente difficile perché poi il buco della perlina si inizia a riempire e allora proviamo così posiziono il filo e infine faccio l'ultimo ovviamente nell'ultimo non salgo di nuovo su ma passo solo attraverso il lavoro il cordoncino all'uncinetto in questo modo e ho già fissato la mia perlina ora qua passo con l'ago varie volte attraverso il cordoncino per bloccare bene il tutto ok è una volta fissato il tutto taglio l'estremità lo stesso lavoro lo facciamo anche dall'altro lato e così il vostro cordoncino sarà pronto